lo sapete che stavo pensando che quando arriverà il mio momento i numeri due sarete voi siete contenti non succederà mai questo don fabio non va voi ci siete e ci sarete sempre ma fino a quel momento sarò io a comandare bevete tutto voglio vedere se posso fidarmi di voi che volete pure due olive a